Gentili telespettatori, buona giornata. C'è questa riforma, possiamo dire anche storica, perché l'IRPEF diventa tre aliquote solamente e c'è anche un risparmio. Gli italiani avranno dei soldi in più in tasca. Quanto? Allora, se vogliamo fare una media, cioè prendiamo il nuovo IRPEF con tre aliquote porterà di media a tutti quelli che pagano l'IRPEF, di media, c'è chi prenderà più e chi prenderà media, di media 160 euro all'anno. Quanto è? 12 euro in più al mese, una roba del genere? Ecco, 12-13 euro in più al mese. Meglio che niente, no? 160 euro in più all'anno, oltre gli aumenti contrattuali, sempre che i sindacati facciano quello per cui sono pagati, 160 euro in più all'anno comunque è un abbassamento delle tasse sul lavoro, sull'IRPEF. E così assente la Meloni perché è malata, c'ha la labirintite, eccetera, eccetera, il CDM, Consiglio dei Ministri, approva ieri sera una serie di provvedimenti di attuazione della riforma del fisco. Chi presiede il Consiglio dei Ministri in assenza del capo del governo è il vice, voi direte che ci sono due vice, Salvini e Tajani. Lo presiede il vice più anziano, più grande di età, che è Tajani. Quindi Tajani ha fatto le veci di Meloni come capo del governo momentaneo. La riunione è presieduta appunto da Tajani, convocata per le 15.30 e cominciata in ritardo perché prima si è tenuto un vertice per sciogliere il nodo dei lavori pendenti col superbonus, la scura e la mannaia di quel famigerato e terrificante superbonus. Ha rifatte la casa gratis e i 5 stelle questi. Bene. E poi non c'è stata invece intesa sulla mini proroga dello sconto fiscale sul rientro dei cervelli fuggiti. Cervelli fuggiti perché in Italia il cervello paga troppe tasse, allora ci sono tanti cervelli fuggiti che vanno all'estero a pagare meno tasse, così diventano cervelli un po' meno pressati dal fisco. Per fare rientrare i cervelli fuggiti dovrebbero esserci degli sconti di un certo tipo, ma sono stati dimezzati. Insomma, diciamo che il cervello fuggito oggi non è propriamente interessato a rientrare come cervello in Italia. Ecco, va bene. Così è, se vi pare. Parliamo dei risparmi delle nuove aliquote. Raggiungerà questo risparmio delle tre aliquote un massimo di 260 euro per chi ha un imponibile da tassare superiore ai 28.000 euro ma inferiore ai 50.000. Perché oltre questa soglia il taglio dell'IRPEF può essere annullato dalla riduzione lineare di 260 euro delle detrazioni. Quindi chi guadagna da 28.000 lordi a 50.000 potrebbe arrivare anche a un 260 euro in più in tasca all'anno. Mentre il vice ministro Leo sottolinea che la semplificazione del processo tributario è l'estensione del regime dell'adempimento collaborativo che dal 2028 riguarderà anche le imprese con un fatturato superiore a 100 milioni rinsaldando il rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente. Hanno stati preparati anche i prossimi decreti di attuazione della riforma ma la vera sfida riguarderà la stabilizzazione degli attuali tagli di imposte e contributi. Infatti sia il taglio del cuneo fiscale sulle retribuzioni confermato con la legge di bilancio sia la riduzione delle aliquote IRPEF sono finanziati per il solo 2024 con quasi 15 miliardi. Quindi attenzione, questa riforma dell'IRPEF non è strutturale cioè è solo per il prossimo anno, a dicembre del 2024 se il governo non tira fuori altri 15 miliardi gli italiani troverebbero un aumento o meglio una riduzione dello stipendio notevole perché quei 100 euro di media del cuneo fiscale quei 10, 12, 15 euro dell'IRPEF rimodulata quindi se a dicembre 2024 non viene confermato per il 2025 o fatto diventare strutturale questi benefici gli italiani si troverebbero 120-130 euro in meno di stipendio dal 1 gennaio 2025 quindi scopriamo tra le righe che la riduzione delle aliquote IRPEF sono finanziati per il solo 2024 con 15 miliardi quindi la riduzione delle aliquote IRPEF non è una cosa strutturale che da adesso in poi sarà sempre così lo sarà solo per 12 mesi e poi si è parlato in questo Consiglio dei Ministri del PNRR più in generale di questo decreto mille proroghe e poi si è parlato appunto perché sono stati allungati i termini per le assunzioni nella sanità e per l'obbligo di fatturazione elettronica per i medici il governo ha inoltre deciso di prorogare a tutto il 2024 la non applicabilità dell'aggiornamento Istat sugli affitti della pubblica amministrazione per immobili destinati a finalità istituzionali prorogata di un anno anche la facoltà per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di istituire estrazioni settimanali supplementari per il lotto e il superenalotto quindi si potranno fare più lotterie perché le lotterie raggranellano un po' di soldi che servono a questo stato ormai praticamente moribondo e più che mezzo fallito grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti ricordatevi che tra un massimo un'oretta 50 minuti ci troviamo ancora qui per un altro video in vostra compagnia grazie e ricordatevi Teleitalia Seconda Rete e poi i video di questi due canali Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete sono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia arrivederci e grazie grazie